Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai... BAMBINI! E in studio qui oggi con noi c'è Sergio Sergini. Ciao a tutti! Buongiorno a Enrico! Ciao Mario! Ciao Sergio, come stai? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, che carino. Bene, allora, tu puoi andare al mare? Sì, sì, oggi pomeriggio! Oggi pomeriggio, va benissimo. Ok, allora, ci hai portato una nuova canzone da imparare? Eh, sì! Benissimo, come si chiama? Allora si chiama... C'era una volta... No, no, lei dicevo. Ah, lei? Sì! Eh, non te la ricordi? Eh, perché non l'abbiamo presentata, Stefania. Ah, non te la ricordi? Eh, non mi ricordo come si chiama Stefania. Boh. Hai fatto la battuta? Ho fatto la battuta. Ciao a tutti e buona domenica! Ok, allora, Sergio. Sì? Facci ascoltare questa canzone il cui titolo è... Eh... C'era una volta una scignetta! C'era una volta una scignetta. Ok. Ok. Andiamo, andiamo. Sì, ok. Eh... Eh... Andiamo? Sì. Vai. C'era una volta una scignetta... Eh... C'era una volta una scignetta... Sì? Te la ricordi, Sergio? Aiuto! Non me la ricordo più! Ma... Oh! 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 Aiuto! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Non succede niente! Allora, capita anche a me di dimenticare alcuni testi quando canto. Ah! Si fa così. Sì! Per caso tu hai un telefonino? Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Possiamo vedere il testo su internet se c'è? Sì! Sono d'accordo! Sì, sì, sì! Ragino! Andiamo, vediamo! Prendo il telefono di Sergio, va bene, va bene. Vediamo se... Annaggia! E ragazzi, Sergio è molto impegnato perché ha tante cose da fare durante... Eh sì! ...a settimana... Sono stato impegnato! E quindi non sempre si ricorda i testi a memoria. Però, poi... Eh? Riguarda la puntata così lo impari a memoria. Eh certo, sì! Ok! Sì! Bene, allora... Ok! Eccolo qui! Adesso sono pronto! Vai Sergio, vai! C'era una volta una sciglietta che se ne stava sulla sua letta, ho grappato alla cima di un ramo, si dondorava piano piano... Aspetta, scusami! Sì! Stefania, tu è inutile che guardi! Hai ragione! Cioè, se Sergio deve cantare, è Sergio che deve guardare, scusa! Eh sì, è giusto, è giusto! Quindi tu girati! È giusto, sì, girati! Sì, va bene, dai, mi giro! Dai! Guarda qua! Va bene, va bene, dai! Vai, Sergio, guarda solo tu! Guarda solo tu! Facciamolo da capo! Vai, Sergio! C'era una volta una sciglietta che se ne stava sulla sua letta, ha grappato alla cima di un ramo, si dondorava piano piano... Le, 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 fa su una zèvra, e la sciglietta le ha cucù! Ma la giracca, qualcuno lungo, segue la sciglia, che cade giù! Aiaiai, grida la sciglia, correte tutti a chiamare un dottore, che sulla testa, io sento già, contro i bernoccoli, eccoli qua! Oh, i bernoccoli sulla te... Oh, vi è cappello, Sergio! Ah, ecco qui! Che bella, questa è una bellissima canzone! Sì! Poi non è nemmeno così tanto lunga, quindi si può imparare a memoria. Bambini, voi imparate la memoria, mi raccomando, e Sergio la imparerà anche lui a memoria, perché... Sì, sì, oggi non ero tanto preparato, mi dispiace, scusate! Oh, bene, ma stai segnato, è un cantante famoso, è normale, sei in tournè adesso... Eh? Sei in tournè, dico... Sono tornato, sì, lo so che sei tornato! No, in tournè, significa che fai tanti concerti... Ah, sì, giusto, hai ragione! Eh, sì, è così! Benissimo! Allora, bambini, imparate anche voi questa bellissima canzone... Sì! E ci vediamo domenica prossima! Ciao! Ciao a tutti! Ciao!